io detesto chiunque mi cerchi di sminuire se non l'odore come ha detto un compagno l'altro giorno mi preside ci è suicidato non si è suicidato ma che caso cambia che cosa cambia di fronte alla tremenda tragédia che ha vissuto il cile per 17 anni dopo di lui che c'entra di fronte alla grandezza di quell'uomo lì di quello che ha voluto lui non aveva bisogno purtroppo il cile non si fa abbastanza per dire che è stato salvato la gente né si fa abbastanza per dire quello che volevamo fare comunità popolare il programma della comunità popolare era una cosa bella